Con decreto del presidente Michele Strianese, numero 151 del 30 novembre, la provincia di Salerno, sopproposta del settore patrimonio ed edilizia scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, approva i progetti di fattibilità tecnica ed economica dimessa a norma antincendio riferiti a diversi istituti scolastici, ai fini della candidatura all'avviso pubblico della Regione Campania, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio degli immobili scolastici, in particolare nel Cilento, tra gli istituti scolastici interessati dai suddetti interventi, rientrano l'Istituto di Istruzione Superiore Vico di Vivo e il Liceo Statale Gatto, sezione associata di Via Pio X di Agropoli, il Liceo Statale Parmenide, il Liceo Scientifico da Vinci di Vallo della Lucania, il Liceo Scientifico di Padula, l'Istituto Tecnico Commerciale Sacco di Sant'Arsenio, l'Istituto di Istruzione Superiore Leto di Teggiano, l'Ipseo Asacco di Sant'Arsenio, l'Istituto di Istruzione Superiore Piranesi, sezione associata di Capaccio Pestum, l'Istituto di Istruzione Superiore Gatta, l'Istituto di Istruzione Superiore di Petrinis e il Liceo Classico Cicerone di Sala Consilina, l'Ipseo Anselchis di Castelnuovo Cilento. L'adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici, di cara il Presidente Estranese, è strettamente legata alla messa in sicurezza dei suoi utilizzatori, studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie, per cui per noi è elemento prioritario nell'attività dell'ente provincia, è urgente provvedere all'adeguamento normativo degli immobili, anche a seguito delle numerose segnalazioni richieste da parte dei dirigenti scolastici, relativamente a interventi di messa in sicurezza e di attestazioni circa lo stato di salute degli edifici scolastici. Abbiamo deciso quindi di partecipare all'avviso pubblico della Regione Campania, con interventi che vanno a coprire tutto il nostro territorio provinciale.